Siamo qua a Igea Marina, stiamo facendo l'intervista sulle nuove musiche che nasceranno in Romagna. Cos'è che dovete dire, dovete proporre? Ma doveva parlare di che? Ah, vorrei dire una cosa. Provate a fare delle domande, te che te ne intendi sul loro genere. Chi sarebbe di voi due che ha vissuto in Inghilterra? Lui, io. Ah, te? Sei te allora? Lui? Te o lui? Si vede che è più piccolo. Lui è più piccolo. Si vede che è più piccolo. Dai, qui basta un po' credere. Quanto tempo più piccolo? Io ho quattro giorni in Inghilterra, ho vissuto. E te in Inghilterra quanto? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Come vi chiamate voi come gruppo? Ah, testestese. Voi? In Inghilterra? In Inghilterra? In Inghilterra, per gli amici dell'Oltremanic? Testestese. Ciao.